5, 4, 3 Bravo perché oggi parliamo proprio dei bias cioè di quegli errori cognitivi, di quelle piccole scorciatoie che il cervello, che cosa fa? Visto che noi abbiamo sostanzialmente un cervello pigro che cerca sempre di risparmiare energia perché forse non molti lo sanno ma il cervello consuma da solo il 30% di tutta l'energia del corpo Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e se attraversate una lunga cravatta rossa arriverete direttamente da Giuseppe Franco Giuseppe Franco al momento non è disponibile si prega di lasciare un messaggio dopo il messaggio acustico Ci vorrebbe però una cosa come questa caro Giuseppe ti immagino dall'altra parte non risponde Giuseppe e resto solo io a fare la puntata Sì sì perché questo che era un bias il mio era un bias di risposta esiste? Un bias di risposta oggi parleremo infatti bravo perché oggi parliamo proprio dei bias cioè di quegli errori cognitivi di quelle piccole scorciatoie che il cervello che cosa fa? Visto che noi abbiamo sostanzialmente un cervello pigro che cerca sempre di risparmiare energia perché forse non molti lo sanno ma il cervello consuma da solo il 30% di tutta l'energia del corpo chiaramente è progettato per cercare di consumarne cioè di ottimizzare questo consumo proprio per cercare di non gravare troppo su quelle che sono le risorse però questa cosa poi ha una contropartita quella che il cervello può cercare di trovare quelle che vengono chiamate le scorciatoie le euristiche che cosa significa le scorciatoie? Cioè cerca di trovare delle soluzioni quanto più velocemente possibile cercando di utilizzare il minimo delle risorse questa cosa qui che molto spesso è importante per risolvere problemi molto velocemente che è chiaro che se io vedo non so sto in un prato che sto camminando e vedo una cosa nera a terra lunga è bene che faccia un salto indietro e quindi che elabri una risposta molto velocemente con un minimo di informazioni e poi dopo mi fermo un attimo e dico ah era un ramo piuttosto che stare lì ad elaborare tutte le informazioni e poi il serpente mi dà un morso sulla caviglia quindi queste cose qui possono anche salvarci la vita però molto spesso queste come dire euristiche che poi ci portano a compiere dei bias cioè degli errori cognitivi possono invece farci fare delle scelte veramente veramente sbagliate cioè ci portano a fare delle scelte a volte anche totalmente irrazionali e oggi visto che continua il mese del neuromarketing cioè lo studio di tutti quei processi decisionali che avvengono nelle persone proprio quando stanno per acquistare oggi parleremo dei bias cognitivi e quindi mio caro Giuseppe faccio una domanda a te e a tutte le persone che ci ascoltano ora apro e chiudo una parentesi il mio amico Giuseppe Franco poverino lui non sa tutte le cose che io preparo della puntata quindi quando gli faccio una domanda e gli dico sto per farti una domanda lui veramente dall'altra parte comincia a venire il sudorino freddo perché effettivamente che cazzo l'ora mi chiede non sa il punto a croce non sa quello che sta per chiedergli cioè voi dovete saperle queste cose dovete sapere che da quest'altra parte c'è a volte veramente un uomo cattivo che sfrutta il povero Giuseppe Franco per fargli fare queste cose qui allora una domanda questa è una delle domande topiche che a volte faccio nei miei corsi di neuromarketing per parlare di come il cervello a volte dà delle risposte molto velocemente allora dice io ti racconto questa sono andato al bar oggi sono andato al bar ho preso un caffè ho comprato un caffè e un cioccolatino ho speso in totale un euro e dieci il caffè costa un euro in più del cioccolatino quanto costa il cioccolatino? non faccio in tempo a scrivere su Google per trovare la risposta ora ti anticipo io questa cosa in realtà quando si fa questa domanda che potrebbe anche essere fatta su una cifra più grande che a volte è più semplice da calcolare diciamo io sono andato in un negozio ho comprato una camicia e una cravatta ho speso 110 euro la camicia costa 100 euro in più della cravatta quanto costa la cravatta? la maggior parte della gente ti risponde 10 euro perché? perché è una risposta immediata che ti ha il cervello quando lavori con numeri come 1, 10, 150 che sono dei numeri di arrotondamento in realtà è un errore perché se ritornando al caffè del cioccolatino se tu rispondi 10 centesimi poi fai il caffè costa un euro in più quindi dovrebbe costare un euro e 10 oppure se vuoi tornare su quella della camicia e della cravatta che è più semplice se la cravatta costasse 10 euro allora la camicia se tu mi dici costa 100 euro in più dovrebbe costare 110 quindi 110 più 10 il totale fa 120 e non fa 110 come per il caffè il totale farebbe 101 euro e 20 in realtà la camicia cioè la cravatta costa 5 euro oppure il caffè costa 5 centesimi perché il 50% cioè pensa che questo test viene fatto al MIT cioè quindi viene fatto in un posto dove dovresti trovare tra le persone più intelligenti del pianeta e pensa che il 50% delle persone lo sbaglia perché lo sbaglia perché sono vittime dei bias e i bias ti portano poi a fare anche errori di economia che ti portano a fare scelte veramente sbagliate ti dico solo questa cosa questo esempio qui l'ho preso dal libro di Daniel Kahneman premio nobile per l'economia del 2002 che è un libro molto bello che si chiama pensieri lenti e veloci infatti qui la risposta che tu mi chiedevi era proprio un pensiero veloce potremmo dire nel senso dove non stavo neanche a ragionare perché alla fine seguivo una logica quasi immediata e tu quando hai posto quella domanda in realtà mi sposti focalizzi l'attenzione su qualcosa quindi non ti metti lì a ragionare mi permetto di dire visto che io al MIT ci sono passato soltanto davanti all'uscita quindi neanche di vicino cioè proprio dall'altra parte della strada quindi se parli in termini di livello di intelligenza come parlavi tu però che cosa succede da quello che hai visto poi il libro che citi è un libro favoloso chi ci sta ascoltando invito a leggerlo io ho sempre fatto una lamentela pubblica agli editori italiani che hanno caspita nella versione scritta c'è proprio il carattere veramente piccolo fitto da leggere non so tu quale versione è vero non è vero ce l'ho anche io è fittissimo tant'è che voglio dire poi ho preso perché ti stanca non è questione neanche di vista poi ho preso la versione digitale proprio per poterla allargare però secondo me in questo caso più siamo fissati più abbiamo la nostra testa un po' che non guarda in modo laterale potremmo dire più cadiamo nei bias cadiamo tutti per carità cadiamo tutti però ci sono alcune persone che poi tra l'altro ci fissiamo troppo su alcuni ragionamenti rimaniamo fermi lì e non riusciamo poi siamo quelli che addirittura il livello proporzionale non ho un livello statistico ma dico stranamente quando sei più convinto di quella cosa ancora di più rischi di incappare in uno dei bias di cui parliamo allora iniziamo con i bias sono veramente tantissimi ci vorrebbero veramente 4-5 6 puntate probabilmente parli di tutti i bias io qui ne abbiamo fatto una selezione tra quelli un po' più importanti e o quelli un po' trattati e uno forse dei meno trattati è il bias del supporto nella scelta cioè il supporto nella scelta cosa vuol dire che noi riteniamo migliori le scelte che abbiamo preso rispetto a quelle che abbiamo scartato qui dentro ci potremmo fare entrare un sacco di roba di psicologia come c'è un mondo qua dentro quando andiamo in dissonanza cognitivo e così via ma non entriamo in questo mondo che è anche un mondo che magari non ci appartiene che noi facciamo marketing però che cosa succede che quando noi facciamo una scelta anche se non abbiamo la prova della controparte alla fine ci convinciamo che noi abbiamo fatto una scelta che la nostra scelta è la scelta migliore questa cosa in realtà al di là del fatto che tu ormai hai fatto una scelta quindi insomma hai scelto di comprare quel modello di auto e nel momento in cui hai fatto la scelta di comprare quel modello di auto pensi che tutte le altre auto non sono all'altezza della tua macchina anche se poi in realtà non ti sei messo in tutte le auto le hai guidate per un mese e quindi hai tirato fuori una statistica reale ho detto no io ho provato tutti i SUV e ti posso dire che avendo provato tutti i SUV sul mercato di questa categoria ti dico che questa è l'auto migliore l'hai fatto solo perché hai visto qualche video su YouTube e poi hai comprato l'auto che sei andato a guidare non hai dei dati statistici però questa cosa è interessante anche se la metti in una condizione dal punto di vista del marketing cioè di far sentire la persona dall'altra parte migliore quando ti sceglie e faccio un esempio se io dico solo per quegli imprenditori illuminati solo per gli imprenditori che sanno osare grazie a questa cosa tu ti sentirai più forte addirittura ci sono quelle situazioni in cui vengono messe in evidenza cose piuttosto banali che però lì per lì ci sembrano veramente che devono fare che ci danno una grande forza grande energia o chissà che quando ad esempio dicono in questo questo integratore contiene acido ascorbico e tu dici caspita deve essere veramente qualcosa di eccezionale quando non è altro che della semplice vitamina C Giuseppe io mi immagino sempre il nostro cervello il cervello la parte rettida come un coccodrillo con il suo plate sul divano io così me lo immagino bellissimo il coccodrillo messo col plate tu non gli devi rompere le scatole lui non vuole faticare di meno quindi tu adesso qua mi dai una garanzia cioè non è poi una forma di garanzia mi stai rassicurando sulla scelta basta tengo quella scelta lì non vado da nessuna parte mi faccio mi sento migliore perché mi devo spostare da sto divano ok mi alzo guarda che integratore devi prendere guarda che devi scegliere questo dovresti guardare questo no guarda questo c'è l'acido ascorbico wow che figo che bello benissimo basta sono a posto e tra l'altro una volta che io ho preso questo immaginate sempre questo coccodrillo coricato con il suo plate che si alza e prende questo già fatto la fatica prendo questo integratore si rimette lì e dovrebbe mettere in discussione quella scelta lì ma non ci pensa nemmeno perché lui si deve rimettere col suo plate a riposare e questa è proprio la sintesi estrema del bias guarda hai dato un'immagine meravigliosa c'è proprio così questo coccodrillo lento con il plate che dice ok che devo fare questo bene una volta che ho fatto questa scelta non vado più a vedere le altre scelte ritengo che questa sia la scelta migliore perché se dovessi pensare che non è la scelta migliore dovrei mettermi in discussione questo consuma energia nel nostro cervello che vale dice il nostro coccodrillo esatto e qui ci porta automaticamente al secondo bias che andiamo a trattare che è il bias della conferma cioè le persone tendono a vedere oppure a cercare solo le informazioni che confermano ciò in cui già credono e qui si apre e qui si apre ti lascio a te ti lascio a te prima di approfondire e ti lascio a te ma qui si apre la melma io la semplifico sempre ricordatevi c'è chi ci sta ascoltando Massimo sta portando degli esempi io sono col mio coccodrillino con il suo plate adesso a questo punto il mio coccodrillo si alza e dice quasi quasi leggo un giornale prende un giornale e lo comincia a leggere ma legge un giornale che porta le notizie o le cose che piace lui leggere perché altrimenti se vede un giornale che non è della sua corrente politica ecco diciamo così per semplificare che palle il coccodrillo dice non ho voglia di questi stronzi basta sto bene col plate guarda che bello questo ragione dicono le stesse cose che dico io wow che bello e chi sta scrivendo che fa quelle cose fa anche il tuo gioco perché sa che deve tenere tranquillo quel coccodrillo non ci pensa nemmeno di mettere in discussione di cambiare canale non lo cambia il canale perché non ha nemmeno voglia di schiacciare il tastino del telecomando vai no ma è proprio così poi i social hanno peggiorato tantissimo questa cosa perché c'è quello che viene chiamato l'effetto filter bubble che poi è stato fatto uno studio c'è un libro molto interessante che si chiama The Filter Bubble di Eli Pariser insomma andatolo a trovare in lingua italiana credo che non ci sia che non è altro il fatto che gli algoritmi dei social cercano sempre di accontentarci di venirci incontro nel metterci nella home del nostro social preferito quelle che sono le informazioni che più si avvicinano alle nostre scelte cioè quello che abbiamo fatto in passato cioè che cosa vuol dire questo vuol dire che se ho cliccato su immagini dei gattini mi troverò sempre più gattini nel mio feed e a un certo punto inizierò a pensare che tutti amano i gatti o allo stesso modo se dovessi mettere mi piace a post che sono contro non so quel partito politico a un certo punto troverei tanta gente che parla contro quel partito politico se io sono contro la mascherina per il covid o il covid mi troverò sempre di più il mio feed quindi la mia home page e social di persone che sono contro la mascherina inizio a pensare che probabilmente tutti sono contro la mascherina e non capisco che quella è soltanto una bolla cioè soltanto l'algoritmo che mi fa vedere sempre le cose che a me piacciono e che vanno maledettamente a peggiorare il bias della conferma cioè che le persone tendono a vedere o a cercare solo quello in cui già credono e quindi non riescono a vedere le altre cose e questo è un problema quando noi ne siamo vittima dal punto di vista del marketing potrebbe essere invece un'opportunità cioè cercare di sfruttare questa cosa per fare in modo che di entrare in quella che è la percezione e quindi l'attenzione del tuo potenziale cliente facendo sì che si attivi la sua attenzione proprio mostrandogli le cose che lui si aspetta cioè parlando delle cose che lui si aspetta facciamo un esempio semplice se io vendo capsule del caffè biodegradabile quindi sono biodegradabili queste capsule allora cosa vuol dire vuol dire che il mio potenziale cliente potrebbe essere qualcuno che è attento al green attento al pianeta è sensibile a tutti questi temi per cui io potrei iniziare a creare post articoli e così via che parlano proprio di questi argomenti parlando di questi argomenti è molto probabile che io entri proprio nel feed delle informazioni e quindi si attivi il sistema di attivazione reticolare del nostro potenziale cliente cioè che lui è sensibile essendo sensibile a questi temi cercando comunque sempre qualcosa che confermi che tutte le altre capsule quindi quelle di metallo quelle di plastica stanno inquinando il pianeta cercano qualcosa che vada poi a corroborare la loro idea quindi potrei scrivere anche degli articoli di come la plastica sta inquinando il pianeta di come le capsule di plastica o di metallo stiano inquinando il pianeta mentre le mie le nostre no e quindi cerco di prendermi il cliente parlando delle cose che gli piacciono Giuseppe cosa ne pensi? Penso che bisogna anche ragionare allargare per capirci in quello che stiamo dicendo il fatto che come il bias di conferma delle volte ci porta a fare delle lotte incredibili perché il nostro famoso coccodrillo lì non solo non vuole sprecare energie eccetera ma una volta che lui sostiene che questo sia biodegradabile se viene arriva fuori all'improvviso arriva un documento un qualcosa che parla di modi diversi lui fa il modo per mandarlo a quel paese lo allontana e difenderà con tutta la sua forza l'idea del biodegradabile per cui chi fa marketing in quel caso e ha trovato la linea deve trovarla bene perché così avrà dal canto suo anche dei seguaci ma aggiungo di più dei difensori di quello che sta facendo per cui e questo lo dimostra basta pensare sull'alimentazione quanti bias di conferma vengono sfruttati nel modo di comunicare partito politico è abbastanza semplice anche da capire tutto questo succede e ruota attorno quindi il bias di conferma mi preoccupa da un lato quello che dicevi tu prima del filtro che abbiamo sui social perché è una sorta di omofilia quindi le persone che adesso cominciano a fare dei ragionamenti solo attraverso i social rischiamo di perdere la ragione delle cose cioè se io voglio indagare su qualcosa devo andare fuori dei social e cominciare a informarmi in altra maniera altrimenti i social mi faranno vedere solo e soltanto una versione delle cose e quindi questo è un grande problema a livello proprio di percezione dell'informazione tornando invece sul discorso della conferma noi se sappiamo utilizzarlo riusciamo ad avere un'ottima strategia e quindi questo questo è il motivo per cui bisogna capire come funzionano i bias sia per difenderci noi nei confronti di quello che succede all'esterno ma dal punto di vista del marketing possiamo cercare di come dire trovare il modo per utilizzarli a nostro favore sempre rientrando nel concetto di etica chiaramente che insomma non parliamo mai di imbrogliare la gente un altro effetto molto interessante è il cosiddetto effetto framing cioè di come tu vai a incorniciare un certo concetto una certa frase un certo prodotto e così via cioè come presenti una cosa cambia la percezione buona o cattiva della cosa a prescindere dalla cosa in sé ora io ti porto un esempio che in realtà mi sono fatto proprio oggi ero al pranzo con i ragazzi dell'agenzia stavamo parlando di varie cose e visto che sto scrivendo ancora un altro libro che parla di comunicazione a un certo punto io mi ero annotato una frase ha detto guarda questa è la frase di un grande uomo politico di sinistra un uomo che ha fatto veramente del bene insomma ha cambiato un po' anche la storia insomma ha fatto delle grandi scelte umanitarie e ha scritto e c'è questo testo che è il suo volantino ed è questo il testo dice i padri dei tuoi figli restano di fronte ai cancelli chiusi delle fabbriche senza lavoro senza pane senza speranza che la loro vita e quella delle proprie consorti possa cambiare tu vuoi un futuro di gioia e libertà per i tuoi figli ecco perché il 13 marzo voterai nome del partito politico questa è la frase e ho chiesto cosa ne pensate di questa cosa chiaramente è una frase insomma risale a un bel po' di anni fa e chiaramente la maggior parte di tutti quanti dicevano sì è giusto potrebbe essere anche utilizzata oggi perché insomma anche oggi non c'è lavoro probabilmente non userei la parola consorte fabbrica cancelli chiusi però tutto sommato è giusto è così ecco là tutte hanno parlato bene di questo volantino finché io ho detto guardate questo è il volantino che ha utilizzato nel 1935 Hitler per prendere potere cioè per portare gente verso il suo partito politico tutti quanti sono rimasti un attimo interdetti però io che cosa avevo fatto non avevo fatto che altro che creare un effetto framing un attimo prima di parlare di presentare questo testo ho detto un uomo di sinistra un uomo comunque politico che aveva fatto del bene ho fatto un cappello chiaramente qui ho giocato in modo sporco tra virgolette però questo è il modo con il quale l'effetto framing funziona ti dico questa cosa Giuseppe poi ti porto altri tre esempi ma li facciamo dopo ti voglio solo dire questa cosa per andare da un'altra parte che so che questa è una cosa che ti interessa molto sarà fatto un esperimento in una serie di caffè dove è stata venduta ad esempio una cheesecake e quindi so che la cheesecake a te piace tanto ecco amico una volta la cheesecake è stata venduta come cheesecake e un'altra volta la cheesecake è stata venduta come New York Style Cheesecake bla 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 e quindi si è stata data un titolo un po' più affascinante più interessante e così via la cheesecake era presentata da un punto di vista estetico sempre allo stesso modo cambiava soltanto il nome sull'etichetta bene la New York Style Cheesecake rispetto alla cheesecake a parità di immagine visiva ha venduto il 27% in più effetto framing sì questa cosa io la riporto sempre al nostro caro amico che è lì che ci aspetta che ti sta accompagnando per la nostra puntata che è il nostro coccodrillo lì messo con sto plate non ha voglia di fare nulla è lì che sta fissando il soffitto a un certo punto arriva la coccodrilla cioè la moglie che lì dice senti guardiamo quel film sui nazisti no? lui dice no non voglio guardare quei film sui nazisti invece se lei fosse arrivata dicendo sai questo è un personaggio importante un personaggio che ha fatto la storia e che comunque ha lasciato un segno importante eccetera sta che cosa sta facendo sta impostando un effetto framing lo sta preparando in modo diverso e quasi quasi il nostro coccodrillo abbassa un po' quel plate e dice vabbè dai guardiamolo questo è successo perché proprio è stata una cornice diversa framing poi alla fine è una cornice se noi all'interno di una cornice come presentiamo le cose sicuramente abbiamo una percezione diversa è un po' per utilizzare un altro esempio ancora più semplice per capire come il framing influenza sul cervello è un po' la cosa di dire senti in costume da bagno in spiaggia non ti vergogni ma il costume da bagno se è in piazza ti vergogni che cosa è cambiato se è sempre il costume da bagno davanti a delle persone in realtà è cambiato il framing è cambiata la cornice e questa è la differenza e questa è come vengono percepite le cose sempre parlando dell'effetto framing due esempi classici sul testo sono questi e poi invece vi aggiungo un altro a te che ci stai ascoltando è interessante invece proprio dal punto di vista del marketing e delle vendite il terzo esempio però è chiaro che se ti dico 95 volte su 100 il prodotto funzionerà bene suona molto meglio rispetto a 5 volte su 100 il prodotto non funziona e semplicemente esprimendo lo stesso concetto uno è in positivo l'altro è in negativo è sempre framing oppure posso dire con questa azione possiamo salvare ben 3000 operai su 5000 e un'altra cosa è dire in questa azione nonostante questa azione perderemo 2000 operai su 5000 sto sempre dicendo la stessa cosa ma l'approccio è diverso invece l'effetto framing è interessante anche quando vengono creati dei prodotti con prezzi particolari c'è una cosa a incorniciare un prodotto mettere a confronto qui in realtà oltre all'effetto framing entra anche un altro effetto che è il bias del confronto che vengono messi assieme tutte e due le cose perché potrei avere un prodotto base e un prodotto avanzato quindi un prodotto base costa 50 euro e un prodotto avanzato costa 90 è chiaro che le persone magari si possono orientare più facilmente a comprare il prodotto base ma se cambio la cornice introducendo un prodotto top da 200 euro allora a questo punto io ho il base da 50 l'avanzato da 90 e il top da 200 questa nuova cornice di presentazione della mia offerta perciò siamo nell'effetto framing più il confronto questa nuova cosa che cosa fa? fa sì che il cervello abbia uno spostamento di interesse verso il prodotto centrale dice va bene forse il base è troppo povero il top in questo momento non me lo posso permettere forse l'avanzato è quello che ha come dire l'equilibrio migliore per quella che è la mia scelta e quindi è stato dimostrato proprio veramente scientificamente che quando tu incornici la tua offerta in questo modo con un terzo prodotto molto caro diciamo molto più caro rispetto alle altre due offerte tendenzialmente il tuo pubblico opterà per la seconda offerta facendoti aumentare lo scontrino medio Giuseppe allora sai che mi si apre i popcorn e abbiamo tanti bias da dire e mi viene soltanto in mente una cosa di come anche la cornice ma anche banalmente come basta impacchettare ma la dico così proprio grezza un prodotto in modo diverso come aumenta la vendita se ci pensiamo quanti oggetti impostati in una maniera visti in un'altra oppure una copertina di un libro aggiornata tutti questi sono comunque come impostiamo quella sorta di framing quella cornice nel riuscire a vendere a creare una strategia andiamo avanti perché lo so che non ce la facciamo con i tempi guarda le cose sono tante poi magari continuiamo nella nostra puntata che tanto è il mese del neuromarketing nella nostra puntata possiamo aggiungere altre cose ancora in ogni caso mi hai fatto venire in mente una cosa che tu hai detto tu hai detto la scatola è stato dimostrato sempre scientificamente che una scatola più pesante dà la sensazione che il prodotto sia di migliore qualità la Apple ne ha fatto ormai a scuola ne ha fatto ormai a scuola se io prendo la scatolina del mouse che ho qui da sola vuota pesa come se ci fosse un oggetto all'interno quindi si vede che ci sono dei pesini o comunque c'è qualcosa che pesa e sono fatto anche degli esperimenti col cioccolato a parità di cioccolato di qualità di forma e così via le scatole un po' più pesanti con le scatole un po' più pesanti le persone dicevano che quel cioccolato era di maggiore qualità poi potremmo aggiungere anche tantissime altre cose se è tondo ti sembra più dolce se è quadrato ti sembra più amaro ma lasciamo stare è un disastro guarda è veramente tutto quello che è il neuro qualcosa è veramente estremamente affascinante e potremmo parlare per mesi mesi e mesi addirittura pure sul colore delle tazzine del caffè che consiglio in generale di usare le tazzine bianche per il caffè se poi lo vuoi far sembrare più dolce usa una tazzina azzurra ok un piccolo parentesi sui colori che abbiamo buttato lì così continuiamo un attimo ancora con i bias cognitivi in questi ultimi 15 minuti di puntata un altro bias veramente insomma molto utilizzato che si conosce bene è quello dell'ancoraggio perché ho voluto mettere comunque il bias dell'ancoraggio anche se è un bias conosciuto perché è potente cioè tu lo puoi conoscere quanto ti pare ma è potente ne sei sempre vittima che cos'è il bias dell'ancoraggio cioè quella tendenza quando si deve prendere una decisione ad affidarsi diciamo proprio in modo eccessivo alla prima informazione che ti viene offerta e io aggiungo anche se questa informazione è totalmente slegata alla scelta che tu stai per fare qui potrei potrei portare un'ora di esempi allucinanti sulle cose più pazzesche però te ne porto giusto una così per iniziare un attimo a capire ad esempio un esperimento classico è stato quello lì della è stato uno che faccio spesso nei miei corsi io dico guarda questa è la mostro la cartina del Madagascar perché tanto quante persone conoscono il Madagascar bene? poche e dico secondo te quanta quant'è la popolazione del Madagascar? io divido il pubblico che segue il corso in due al primo pubblico scrivo sopra un milione e poi faccio questa domanda al secondo pubblico scrivo dieci milioni e poi faccio la domanda il pubblico che vede un milione tendenzialmente resta più o meno intorno ai 5-6 milioni di popolazione quello che legge 10 milioni si attesta intorno ai 30-40 milioni eppure il pubblico è un pubblico insomma è sempre lo stesso non è che c'è qualcuno che c'è stato meno semplicemente il primo si è ancorato visivamente a quel milione il secondo si è ancorato a 10 milioni eppure io non dico un milione è un punto di partenza è soltanto un numero avrei potuto mettere anche un'altra cosa un altro esempio classico è quello di Gandhi nella prima domanda viene fatto Gandhi è morto a un'età superiore ai 9 anni a un'altra parte del pubblico viene fatta la domanda dice Gandhi è morto a un'età più bassa di 140 è chiaro che Gandhi è morto a un'età più bassa di 140 ed è morto a un'età più alta dei 9 anni però la cosa sorprendente è che quando si parla quando si mostra il 9 le persone si assestano più o meno intorno ai 45 50 anni quando si mostra 140 le persone si assestano intorno ai 60 70 anni perché? perché si sono ancorate a quel numero quindi l'effetto ancoraggio è un effetto veramente molto potente potrei portarti esempi allucinanti non lo so se lo farò e lasciarti la palla no io mi devo zittire perché mi è venuto in mente anche il rispetto della persuasione che c'è dietro all'effetto ancoraggio potrei parlare all'infinito mi veniva in mente l'esempio di una ragazza che cerca qualcosa ai genitori eccetera però come dire la zittisco e torniamo sempre al nostro caro amico coccodrillo che in questo istante lì sempre fermo è la coccodrilla di turno dice senti compriamo il televisore per dire no no allora in quel punto rischia la sopravvivenza il coccodrillo non so se posso spendere tanto quindi è preoccupato gli dice che costa 300 euro lui dice no non lo so poi invece se avesse fatto in un'altra maniera del tipo hai visto questo televisore qui costa 1500 euro ok poi gli fa vedere quest'altro che costa 800 il nostro coccodrillo quasi quasi ha quella percezione sull'ancoraggio di prima di pensare che quello di il secondo da 800 per quanto una cifra alta lo percepisce come più economico questa è una delle cose più semplici semplici perché rimane nello stesso contesto ma tu prima accennavi anche il fatto che in contesti diversi cioè potrei anche dire lo compriamo il tostapane che costa 1000 euro e tu dici ma cazzarone il tostapane ma sei impazzita invece poi gli dico guarda il televisore invece da 300 euro e dice ah beh 300 euro lo possiamo spendere anche se non ha la possibilità magari in quell'istante proprio perché c'è un effetto ancoraggio ma infatti Steve Jobs ha fatto scuola quando mostrava le prime ipad oppure l'ipod non mi ricordo lui iniziava con una slide che c'era scritto 900 dollari e poi per tutto il resto parlava spiegava diceva eccetera nel frattempo tutti si erano ancorati a 900 e poi alla fine diceva costa solo 450 e tutti quanti wow se avessi detto direttamente 450 probabilmente qualcuno avrebbe detto caspita 450 e quello è semplicemente l'effetto ancoraggio quindi questo è molto importante sempre nelle trattative quindi la prima mossa è fondamentale quindi avere una strategia in merito veramente alla prima mossa da fare se dire o non dire un prezzo è molto importante perché poi in base a questo ti vai a giocare tutto il resto appresso io me ne accorgo perché a volte ho dei clienti che hanno dei contratti molto bassi perché magari è soltanto una gestione di una fanpage e così via poi a un certo punto loro chiedono di avere delle consulenze su delle cose molto più complesse e quando vedono il prezzo hanno un momento di sbarellamento che dicono caspita perché perché sono ancorate a quel prezzo molto basso la stessa offerta la stessa cosa se viene aggiunta a qualcuno che ha un contratto più alto invece non fa una piega perché è ancorato a prezzi molto più alti questo sostanzialmente è l'effetto ancoraggio l'effetto ancoraggio ovviamente funziona con cose proprio assurde a volte tu fai vedere soltanto un numero metti 10.000 da una parte poi se ha parlato di una cosa lui si è ancora su 10.000 io ti consiglio a te che ci ascolti sull'effetto ancoraggio di andare ad approfondire perché veramente c'è tanto tanta roba da andare a prendere un altro bias interessante è quello della disponibilità cioè si tende a dare come dire un valore di probabilità più alto a tutti quegli eventi che in qualche modo sono più vividi o che hanno un impatto emotivo più forte nei nostri ricordi o emozionalmente ci hanno coinvolto di più per cui se io vi dicessi in questo momento ma nel mondo chi è che fa più vittime gli squali o le vacche la maggior parte della gente mi dirà chiaramente gli squali ammazzano più persone rispetto alle vacche io ti dico che le mucche uccidono più persone rispetto agli squali sia tu te le immagini la mucca con la suona dello squalo no 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 la mucca che ti sei sì perché le mucche o per calcio ho fatto questa scoperta o per calcio o per schiacciamento uccidono nel mondo più persone rispetto alle squali ma anche senso perché abbiamo molto più a che fare con le mucche e con gli squali però lo squalo emozionalmente ha un impatto molto più forte e quindi quando i media enfatizzano un certo evento che potrebbe essere l'immigrazione rapine furti e così via noi sentiamo che questa cosa ci coinvolge di più e quindi diamo probabilità più alta Giuseppe sì mi è fatto venire in mente il periodo dei cani che mordevano i padroni cioè che mangiavano cioè mi ricordo che c'era stato un periodo adesso mi ricordo esattamente in quale anno dove ne veniva fuori un'estate fu un'estate di qualche anno fa al giorno che veniva questo oddio cane 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 che faceva questo cane che faceva quest'altro poi alla fine tu quando vedevi anche un cane anche un ciguava dici oddio adesso mi distruggerà una gamba questo neanche riesce a guardarti questo perché noi abbiamo avuto una sovraesposizione a quel tipo di immagine e quindi noi ci spaventiamo dico in punta di piedi almeno nel momento in cui stiamo registrando che probabilmente siamo tuttora in una sovraesposizione mediatica su alcune cose dove noi aumentiamo anche la paura rispetto ad alcune cose rispetto ad altre e questo purtroppo è una cosa che ha a che fare anche con i nostri bias poi c'è anche un fondo di verità quando tu dicevi degli squali delle vacche entrambe comunque hanno ucciso delle persone però la percezione era diversa abbiamo dato più colpa agli squali che alle vacche eh sì perché emozionalmente lo squalo insomma a parte che lo squalo c'ha la colonna sonora e la vacca no quindi solo per questo adesso quando vedo le vacche in montagna vedo le vacche sento na 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 in testa veramente quello un altro bias un altro bias proprio classico che viene utilizzato molto dal marketing è il bias dell'avversione alla perdita cioè le persone hanno cioè vogliono maggiormente evitare una perdita piuttosto che avere un guadagno cioè se una persona dovesse scegliere se rischiare per guadagnare 100 euro o rischiare di perdere 100 euro quella l'emozione della perdita è molto più forte dell'emozione della vincita e qui si innescono poi una serie di cose che sono le leve dell'urgenza della scarsità e del zero risk cioè del rischio zero chiaramente l'urgenza sono cose piuttosto semplici da capire scade tra 30 minuti scade fra due giorni il cervello rettile si attiva perché ha quella sensazione di dire può essere che poi domani non lo trovo più quindi poni attenzione su questa cosa visto che ne abbiamo parlato tante volte e ora magari tu ci dirai ancora qualche altra cosa di tuo voglio dire che una cosa che funziona molto bene sia sulle landing page che nelle mail e io lo sto utilizzando ultimamente e ho visto che veramente mi sta dando e mi ha dato ottimi risultati sono i conti alla rovescia quindi se tu hai un'offerta metti il conto alla rovescia perché il conto alla rovescia è un potenziatore un potenziamento cioè ti riesci a potenziare proprio l'avversione e quindi la leva della perdita l'avversione come dire è la leva dell'urgenza Giuseppe allora su questa cosa più che dare un altro esempio perché comunque come giustamente dicevi ne abbiamo parlato in più occasioni posso darti la mia esperienza sul contatore sì assolutamente ma anche il sol fatto di vederlo lì ad alcuni io il primo quando vedo quella cosa lì mi crea proprio anche ansia o porca miseria io stesso cioè io magari faccio la mia pagina riguardo e mi vado in ansia da solo io quindi questa è l'esasperazione di quello che stiamo dicendo mi metto invece dei panni di chi adesso in questo momento dice ma non è vero io quando leggo gli ultimi tre pezzi lo so che è una fregatura e quindi non lo faccio vero vero però io dico questa persona che pensa in questa maniera chiaramente sei una persona in quel momento e invece dobbiamo ricordarci che la parliamo sempre a livello di statistica di numeri come diciamo e ripetiamo sempre questa è una cosa che noi battiamo moltissimo per cui è vero questa cosa io stesso che conosco che comunque di queste cose penso di leggere un giorno sì e un giorno no un libro alla fine su alcune cose sono il primo a caderci proprio per il fatto che ho come l'impressione non tanto poi delle volte dici sarà vero o no lo so che magari può essere non può essere vero però ho paura di sbagliare di commettere una cavolata dici quella cosa lì forse mi serve ok il coccodrillo lì sul play dici ma forse forse mi serve un paio di calze in più così mi proteggo guarda sta per finire l'offerta non ci sta pensando in quell'istante però quasi quasi li compro perché potrebbero servirmi cioè il più potrebbero servirmi che dire pentirsi dopo dici caspita potevo comprarli la versione della perdita è molto importante le persone non vogliono perdere hanno questa cosa di non voler perdere i propri soldi non voler perdere tempo e così via quindi l'urgenza è importante scade fra 30 minuti scade fra un giorno il conto alla rovescia e così via la scarsità ultimi tre pezzi ultimi cinque pezzi ultimi due possiamo soltanto servire gli ultimi dieci clienti gli ultimi tre clienti e così via e un'altra cosa molto importante che va come dire a compensare questa versione della perdita è proprio il zero risk cioè il rischio zero e quindi tutto quello che va a calmare questo rischio di perdere quindi come le garanzie soddisfatto rimborsato ad esempio funzionano molto bene perché ti vanno a calmare questa proprio vanno ad alzerare questo rischio quindi io lo so sempre nei miei corsi dico guarda tu vieni al mio corso se poi il corso non ti piace io ti rimborso tutti i soldi arrivederci quindi non rischi niente e quindi questa cosa rilassa le persone che dicono ok allora a questo punto gli do questi soldi a massimo perché tanto se il corso non mi dovesse piacere lui mi rimborsa al 100% e tu ti tranquillizzi e a questo punto in questi ultimi veramente tre minuti di puntata mettiamo gli ultimi due bias che sono il bias del pregiudizio dello status quo più che altro è non volere uscire dalla situazione in cui ti trovi e il bias dell'ingroup vediamo prima quello dello status quo cioè le persone l'abbiamo detto all'inizio della puntata tendono a restare un po' lì dove sono tu hai fatto un po' l'immagine del coccodrillo sul divano con il plaid in realtà noi siamo così stiamo lì sul plaid cioè sul divano con il plaid e non vogliamo muoverci quindi una volta che abbiamo scelto un fornitore utilizziamo sempre lo stesso prodotto andiamo magari sempre allo stesso ristorante perché perché scegliere cambiare idea comporta uno sforzo cognitivo e l'abbiamo detto il cervello consuma molta energia quindi tutte le volte che può non scegliere oppure scegliere con estrema facilità è un vantaggio quindi da un punto di vista del marketing quello che devi fare è limitare in modo estremo le scelte c'è una stioma che dice troppa scelta nessuna scelta quindi non mettere cento cose da fare per questo cliente cento tipi di soluzioni diverse mettene tre al massimo perché tre è il numero perfetto sei è il massimo che il cervello riesce ad elaborare contemporaneamente quindi tre è la scelta più semplice da poter fare crea delle tabelle di comparazione ti faccio vedere tra questo e questo cioè crea delle situazioni in cui riduci al minimo lo sforzo cognitivo e le scelte che il tuo cliente deve fare perché in questo modo riesci a superare questa tendenza alla resilienza cioè di restare lì dove sei senza fare quello sforzo di andare avanti e allora aggiungo l'immagine che tu in questo momento è come se chiedessi al tuo coccodrillo messo lì sul divano e dici senti che ne dici di alzarti e andare a buttare la spazzatura oppure alzarti e andare a vedere cosa c'è nell'altra stanza magari stai meglio magari puoi trovare un divano migliore non ci pensa nemmeno però se dico senti sai che facciamo vengo lì ti prendo in braccio e ti accompagno io allora quasi quasi il coccodrillo dice dai però guarda non mi devi muovere il play devi stare tutto tranquillo senza sforzo se mi fa freddo devo rimanere lì non mi devo nemmeno rendere conto allora questo qui lo accompagni arriva nell'altra stanza e dice oh che bello non mi sono quasi mosso allora a quel punto riconosce che c'è un divano migliore e si ferma ma se io dovessi dire proprio di alzarsi così da zero a mille da zero ad alzarsi la cosa diventa difficile soprattutto scusami soprattutto se gli dice vai in più stanze non ci pensa nemmeno assolutamente cioè quale dovrebbe essere la stanza migliore no ma tu pensa Netflix Netflix alla fine della puntata della serie tv che ti stai vedendo automaticamente ti porta a vedere la successiva quindi lì è proprio ti sto portando in automatico cioè non devi neanche premere il pulsante lo faccio io per te perché lui sa che se tu devi uscire da questa serie e andare a prenderti la puntata successiva probabilmente nel frattempo vai a fare un'altra cosa ti distrai e non continui invece lui ti vuole lì costantemente perché vuole il numero e questo serve proprio a questo il bias dell'ingroup è l'ultimo bias che andiamo a vedere è semplice da comprendere è perché vuoi o non vuoi insomma noi facciamo sempre parte tutti noi facciamo parte di un gruppo per fascia d'età per sesso per condizione economica per status sociale oppure comunque abbiamo oltre a questo abbiamo un gruppo di riferimento il gruppo al quale noi vorremmo appartenere qui c'è uno degli studi molto interessanti c'è uno studioso che si chiama Gustavo Lebon approfonditelo quando fece sociologia mi ricordo che approfondi molto sulla dinamica dei gruppi dal punto di vista del marketing questo è interessante quando tu crei una comunicazione che fa in modo che il tuo cliente sente che tu fai parte del suo gruppo o che tu stai portando il tuo cliente che grazie a te lui entra nel gruppo nel suo gruppo di riferimento quindi tu già fai parte del suo gruppo di riferimento e te lo stai portando dentro quindi un po' creare quel noi contro di loro noi siamo quelli bravi loro sono quelli cattivi noi siamo quelli con la verità loro sono quelli con la bugia oppure noi siamo i VIP loro sono i non VIP noi siamo quelli intelligenti loro sono quelli un po' più stupidi cioè creare il gruppo di appartenenza grazie al mio prodotto tu puoi entrare in questo gruppo di appartenenza grazie a questo famoso orologio tu aumenti il tuo stato scuo grazie a questa macchina fai parte anche tu di questo gruppo qui quindi far parte fare in modo che la tua comunicazione entri nella testa del tuo potenziale cliente che si sente o parte del gruppo o che grazie a te riesce a entrare nel suo gruppo di riferimento e qui il nostro amico coccodrillo che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine in questo momento è quando lui tiene la sua squadra tiene la sua squadra che lo so Tifa, Juve, Milan, Napoli non so quale squadra e lui la sostiene dice chi sta da questa parte è figo chi sta dall'altra invece non lo è e questa cosa può essere estesa la si nota non faccio nomi perché sennò si alza il polverone ma succede succede anche in tutto quello che ascoltiamo il giorno cioè se quelle persone credono a quello sono ignoranti e se invece credono di qua sono intelligenti o viceversa quindi noi per giustificare anche il nostro bias di essere all'interno di questo gruppo diciamo per forza che quelli che la pensano in modo diverso sono dei cretini e quindi questo è quello che poi alla fine crea questi schieramenti però chi è a capo di questi schieramenti di questa comunicazione se riesce a fare a utilizzare questo bias dell'ingroup riesce ad avere una come dire un seguito di persone vicine proprio che sostengono fortemente quell'idea ed è una grande leva quando stiamo creando una strategia di marketing ladies and gentlemen il riepilogo di Giuseppe Franco signori questo poteva essere una puntata di quelle che insomma parlavi un po' alla come dire alla documentario ecco volevo dire documentario il coccodrillo che si trova sul divano con il suo plate pronto a parlare dei bias ma in realtà perché io ho parlato del coccodrillo perché volevo introdurre e sostenere quello che ha detto il mio amico Massimo Petrucci nel parlare dei bias di comportamento questi bias che in qualche maniera sono dei bug del nostro cervello però che in qualche maniera poi diciamo ancora possono o no influenzare le nostre scelte ed è di questo che abbiamo parlato appunto del bias della scelta uno dei primi che ci fa influenzare le nostre scelte e poi siamo passati al bias di conferma bias di conferma quello stronzo che comunque ci porta a scegliere delle cose e a evitare d'altro pensiamo quando scegliamo un giornale pensiamo quando siamo nei social guardiamo delle cose e dimentichiamo altre e poi in velocità siamo passati a quello che il bias il framing cioè la cornice in base a dove ci troviamo noi reagiamo in un certo modo e poi abbiamo anche l'ancoraggio l'ancoraggio sui prezzi per esempio ti faccio vedere un prezzo super poi ti faccio vedere un prezzo più basso allora tu percepisci che quasi quasi stai risparmiando ma se ti avessi fatto vedere quel prezzo bassino tu non mi credevi prima e invece con questo effetto ancoraggio riusciamo a fregarci da soli perché se siamo noi ad essere vigili quando stiamo acquistando invece se siamo gli altri che dobbiamo prevedere questa strategia dovremmo ricordarci e poi subito in velocità ho scoperto che ci sono le vacche killer così mi ha raccontato Massimo perché abbiamo parlato del bias della disponibilità abbiamo parlato della differenza tra squali e vacche ma non ti dico qual è la risposta perché devi andare a riscoltarti il podcast se non hai ascoltato quel piccolo particolare e poi abbiamo parlato di avversione da perdita pregiudizio dello status quo e poi infine l'ingroup noi contro loro noi siamo fighi loro sono scemi o viceversa queste sono state le leve o meglio i bias che sono delle falle del nostro cervello umano ma che se le conosciamo e diventiamo consapevoli riusciamo a essere strategicamente più efficaci e nella prossima puntata dedicata qui al neuromarketing parliamo dei 12 archetipi fondamentali parleremo dell'angelo custode del creatore del sovrano e di perché sono importanti e se credi che siano delle cose un po' così dici ma che roba è l'angelo custode del creatore del sovrano io ti dico che sono le cose che hanno scelto con molta attenzione l'ego coca cola png johnson & johnson nike e bla e bla e bla e bla siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su itunes google podcast spotify youtube e spreaker inoltre su 667 punto agency slash podcast trovi link a video libri e a molte altre risorse le poche le puoi le puoi le puoi la prossima e le puoi le puoi la prossima